Erizzo, la città toscana, a registrare negli ultimi mesi il dato inflazionistico più alto, più 9,2%. La stangata è soprattutto su pane, latte, passata di pomodoro. Il pane, ad esempio, è aumentato del 10%, la passata di pomodoro dell'8%, il latte fresco del 13%. Siamo a un livello superiore di 0,7 punti percentuali sulla media anche nazionale, purtroppo perché abbiamo ovviamente un costo delle materie prime molto alto che lentamente si sta posizionando anche sul prezzo delle merci. Questo dal punto di vista inflazionistico crea sicuramente problemi per quanto riguarda ovviamente i consumi e abbiamo anche ovviamente delle aspettative purtroppo di rallentamento anche della produzione. Devo dire che l'inflazione è ancora una volta legata all'aumento dei prezzi energetici che ha raggiunto un più 67% su Arezzo, ma purtroppo si sta posizionando, come dicevo prima, anche sui beni alimentari con un aumento a due cifre che coinvolge anche prodotti come soprattutto i mobili, come anche soprattutto i servizi, in particolar modo i trasporti dovuti in questo caso anche all'aumento ovviamente del carburante e purtroppo anche turismo con i servizi ricettivi soprattutto che vede un aumento anche in questo caso a due cifre e anche in questo caso la ristorazione con cifre più contenute un più 3-3%. Ecco Arezzo è ovviamente una provincia fortemente evocata all'oro, da quel punto di vista qual è la situazione soprattutto legata all'inflazione? C'è molta volatilità sul prezzo dell'oro e sicuramente aumento anche in questo caso è sempre un bene rifugio, quindi nel momento in cui aumentano i costi delle materie prime, i beni energetici, si ha un aumento anche dell'inflazione, l'oro di conseguenza viene visto come un bene rifugio. Nel nostro caso soprattutto di Arezzo, essendo una specializzazione produttiva legata al distretto orafo, quindi è materia prima l'oro ad Arezzo per la lavorazione, abbiamo avuto sicuramente dei contraccolpi non sicuramente importanti dal punto di vista della quantità di import dalla chiusura delle importazioni da parte dell'oro della Russia, ma questo ha diminuito il volume complessivo della materia prima in circolazione per il commercio e quindi l'approvvigionamento e creerà sicuramente delle tensioni purtroppo ancora una volta sul prezzo dell'oro nel prossimo periodo. C'è da aspettarsi un rialzo? È probabile, anche se ovviamente le tensioni internazionali giocano un ruolo decisivo, ma questo è un settore che sicuramente sarà fortemente esposto anche nella ripresa estiva.